Nei nostri cuori è vivo il dolore per la strage che la sera di giovedì scorso a Nizza ha falciato tante vite innocenti, persino tanti bambini. Sono vicino ad ogni famiglia e all'intera nazione francese in lutto. Dio, Padre buono, accolga tutte le vittime nella sua pace, sostenga i feriti e i conforti familiari. Egli disperta ogni progetto di terrore e di morte, perché nessun uomo ossi più versare il sangue del fratello. Un abbraccio paterno e fraterno a tutti gli abitanti di Nizza e a tutta la nazione francese. E adesso tutti insieme preghiamo pensando a questa strage, alle vittime, ai familiari. Preghiamo primo in silenzio.